ok ragazzi ho creato un nuovissimo mondo giusto giusto per culo se non so capitano è giusto cazzo sono felice sono molto felice molto felice ma il problema è che non ho più un cazzo quindi mi serve per forza altrimenti allora mi ricordo che avevo tipo 3 di questi massimo di 64 giustamente poi avevo tipo questa armatura ah si giusto vero cosi di fer vero ferr 1 no non così cazzo non così no 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 un po' di torcia vero 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 avevo una crafting varia con un vendettor non vero vero non erano che erano 3 alle avevo 1 2 3 e paradi lei mi ha mezza scassata 3 ok torcia anzi giusto aveva il mangiare quindi cibo tipo cibo cibo avevo tipo delle bistecche costo costo 3 3 3 sono pronto possiamo di cominci possiamo di cominci allora patty da quel cazzo di parte andiamo per fare la nostra casicchia di là un posto più alto mi serve un posto più alto mi serve un posto più alto terra 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 vai più in alto più in alto c'è una bella villa sopra un albero cibo 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 dai cazzo dai cazzo dai cazzo 1 2 3 3 3 4 5 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 mamma 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 molto il offending l'invita il 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 augusto per un tipo della una lana, solo una lana una lana una lana una cazzo di lana uno, due, tre, quattro, cinque sopravvissuto porta male wow wow ok ma adesso si, cosa è meglio così terra allora cominciamo qui torci qui madonna che cazzo di lag non posso per sbaglio ho fatto f1 ok perfetto si così frapp se è contento non tolgo di questo cazzo di frapp passa 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 allora allora lag 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 ok allora lag lag ma porca troia che spiega cazzo, allora ecco, avrei bisogno di po' ecco qua comunque sono pazzo più o meno voglio che la cosa arrivi fino a qui a casa deve arrivare quindi qui ci sarà il topimento lo faccio di giungle o di querce lasciate veloce lo cammino molto ma molto veloce si è abbastanza bello adesso cominciamo a fare il giro facciamo il giro una cosa abbastanza grande vai 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 a vedere male la pivu delle mele oh, ah, sì ne avevo tre mi pare lo so e non fatti a me rin pietichissimo vai si, allora così 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 vai vai trattatino ok vai vai così vai così vai così molto bene così vai così vai così vai così vai così vai così mica pieno di vetro dove fai sta cosa pieno di vetro vetro dovrebbe anche un lucernaglio di una ronda dovrebbe anche un lucernaglio di una ronda dovrebbe anche un lucernaglio di una ronda un po' adesso si adesso si unisce tutto ah sì dico bebe questa cazza di cosa nooo nooo cadere stava petto di maio salvatore mi sta a fare nooo mi sta a fare nooo mi sta a fare finendo la legna la legna la legna la legna per ora così ok vai così vai così vai così vai così vai così e così per ora poi questo si si deve levare si deve levare ecco cosi sta oscurando prima che sparano dei mod dei mod sì certo dei mod dei mob piccatechisti 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 e scelta se tu mi hai no per forza però ti mi sa che troppo vai vai così aspetta bambini adesso si un po' di materiali sotto il pavimento così il video con usciuto ci sta di più spu ci siamo c'è il seno terra non so fonte di gioco mi sarà riuscita la motore ma mi si fa luce ottimo si leva? si leva? si leva? si leva? no è seguito vuoi fare una cosa figheri ma mi serve? oddio lo spazio è insufficiente va va dopo lo vediamo scusate ragazzi mi sembra soltanto per un minuto e non così cazzo ma qua c'è il gusto 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 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 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10 11